Avete presente, no, in fantasia di Walt Disney, che c'è la scena dei dinosauri, poi diventano dinosauri, ma iniziano ad essere unicellulari, che fanno bub, bub nel blu. Qualcosa di completamente diverso. Il sesto giorno ti creò, cosa che ha, invece uomo e donna, donna e uomo li creò. Allora, l'uomo aveva quattro mangi, due mondi, quattro orecchie, quattro gambe. E due organi per la rivoluzione. Io taglierò ciascuno di essi in due, così che saranno costretti ad andare su due sole gambe. che la confisco. Sì, gentile, e volta codesti i tapini verso l'interno gli organi della riproduzione. Ma con lo di guadaliera? La donna dello schermo. Beratrice. Laura. Samantha. Ma chi è Samantha? È una donna dello schermo. Ma non esiste Samantha, è un po' di ricardo. Ma non esiste Samantha, non ho mai. Shakespeare? Approfondimento! Fledimel. 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 Che madre? Sua madre era molto affettuosa con lei, quando era piccolo. Affetto. Affetto, certo. Forse ci stiamo avvicinando. Lei ha vissuto una situazione abbandonica Per caso si ricorda che sei stato allattato al seno? Ah, il seno, il seno A cominciare a cercare i seni di lei Ma ricorda, delicatamente Più delicatamente che puoi Ora, prova a muovere la mano Su e Joe Su e Joe Su e Joe Let's do it Let's fall in love 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 Let's fall in love